Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! Grazie per la visione! Adesso che ci siamo riscaldati possiamo fare gli esercizi per le gambe! Grazie per la visione! 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 Adesso alleniamo gli addominali e i dorsali! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Buona! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!